Ciao, sono Enrico del Frantoio, il cassone a vada. Se sei un agricoltore, se sei un produttore di olio professionista che produce per vendere, oppure sei un produttore d'olio solo per il consumo, le necessità della famiglia, oppure sei un giardiniere, un contadino del weekend, un potino e hai la necessità di utilizzare prodotti fitosanitari per combattere insetti e parassiti, da fine febbraio, primi di marzo organizziamo un corso qui al Frantoio in collaborazione con la Brain System, agenzia formativa autorizzata dalla provincia di Livorno per l'ottenimento del certificato che ti serve di abilitazione all'utilizzo di tali prodotti. Per cui, se ti interessa, ci puoi contattare direttamente al numero 0586 78 61 62, oppure tramite email passando dal sito www.oliosaccomani.it o fisicamente venirci a trovare quel Frantoio. Ti aspetto, ciao! Ciao! Ciao!